La sconfitta subita contro la Roma non ha scalfito le certezze del Bari. Antonio Langella, centrocampista esterno, ostenta sicurezza dopo la battuta d'arresto rimediata contro i giallorossi. Cosa non ha funzionato a Roma? Sicuramente credo che non sia andata bene buttarla dentro, perché ci siamo trovati 3-4 volte proprio attuperto col portiere, non siamo riusciti a buttarla dentro e invece loro hanno fatto gol, quindi credo la differenza sia stata solo questa. Lo scarso feeling con il gol degli attaccanti biancorossi non preoccupa Langella ormai pienamente inserito negli schemi di gioco di ventura. A volte ci sta che durante un'annata a volte riesce a tirare da metà campo e fare gol, a volte davanti al portiere sbagli, però noi sappiamo sia Barreto, Kutuzov, Meggiorini, quelli che possono dare per noi, sappiamo che sono dei grandi giocatori, quindi spero che anche da domenica possano fare gol, perché ci servono tantissimo i gol. La prossima sfida di campionato, che vedrà il Bari impegnato al San Nicola contro il Siena ultimo in classifica, rappresenta un'occasione di riscatto per i biancorossi. Come sarà la partita con il Siena? Sarà sicuramente molto dura, perché loro verranno qua per cercare di non subire le nostre giocate, Poi avendo cambiato allenatore è sempre difficile quando troviamo una squadra a cambiare allenatore, perché si vogliono mettere tutto in mostro, quindi daranno magari qualcosa in più che magari prima non davano, quindi ci aspetta una partita difficile.